E' evidente che se continuiamo in questo modo, nell'arco di una decina d'anni, la situazione sarà cambiata profondamente e si cominciano già a vedere risultati. Piatto forte dei lavori che dovranno finire entro il 2020 sono le casse di espansione di figline, finanziate con 90 milioni di euro e progettate per contenere 25 milioni di metri cubi d'acqua. Una soluzione integrata che è stata progettata anche per risparmiare suolo, perché anziché avere il tamponamento della cassa di espansione e il rilevato stradale separati, in questo modo risparmiamo suolo e ottimizziamo anche le risorse per questi due importanti interventi. I lavori per la prima cassa di figline visitato dalla delegazione regionale si integrano con quelli che riguardano la nuova strada regionale 69. Sono quelle opere attese da 50 anni, 50 anni sono passati dall'alluvione e purtroppo in questi 50 anni sono molti i tempi che invece dobbiamo recuperare. È un'opera molto importante già questa perché consente già questo lotto di invasare, se non sbaglio, qualcosa come 2 milioni e mezzo di metri cubi, quindi stiamo parlando di dimensioni importantissime. A regime le 4 cassa arriveranno a circa 25 milioni di metri cubi per un costo complessivo di 90 milioni, quindi è un'opera assolutamente strategica, nella quale la Regione Toscana non solo mette risorse ma mette anche la progettazione, siamo soggetti a attuatore, tra l'altro secondo una progettazione.